Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la prima fase delle sfide di Thor che vi richiede di visitare i contrassegni di Bifrost, come Thor appunto. I contrassegni si trovano qui dove ho messo il punto, vedete? Non potete sbagliarvi, li vedete già dalla mappa e li vedete anche dall'alto, vedete? Qui, praticamente qui, tutto quello che dovete fare è nei panni di Thor, mi raccomando, con la skin di Thor è arrivare qua. Cioè, nulla di complicato, quindi atterrate qua e voilà, la sfida è completata.